Shhh! Che trambusto, farà un fusto, mi ci butto. Ragazzi, ho il piacere di presentarvi Albain 2.0! Non sei affatto da buttare, pupa! Io sono nato pronto! Ecco che cosa devo diventare! Un supereroe! In fondo, in parte, lo sono già! Che la leggenda di Albain 2.0 abbia inizio! Stai attento! Ehi, la Ocknor! Sei annoiato? Stai cercando un nemico per movimentare un po' la tua vita? Siamo quello che fa per te! Siamo geniali! Che cosa aspetti? Forza, entra nel nostro teletrasporto! Buongiorno ragazzi! Il sole splende! Gli uccellini cantano e... Ho preparato i pancake! Miei cari amici! Quest'oggi voglio raccontarvi una storia! No, non si tratta di una delle mie solite matte avventure! Vuoi dire le nostre matte avventure? Questa è una storia con una morale che parla di amicizia, lealtà, spirito di tuba e appunto! Ed è così che abbiamo imparato che non c'è modo migliore di passare il weekend che a casa con i propri amici! CRIPTA!